Conclusa la kermess di Green Blue Days, in questa seconda edizione si è percepito il contributo, tramite le visioni delle nuove generazioni, a definire strategie innovative di sostenibilità, in grado di incentivare la nascita di nuove attività imprenditoriali e di nuovi progetti, estendere e contaminare i contesti di ricerca e produzione a livello locale ed in particolare nei territori del mezzogiorno. Di qui il seguitissimo ultimo talk numero 11 dedicato al cambio di mentalità, coordinato dalla giornalista Tiziana Grassi e da Rosa Manzo, professore associato dell'Università South Eastern Norway di Oslo. È stata un'esperienza straordinaria, anche perché queste giovani tre co-founder e fanciulle esplosive vengono da Napoli. Questo è un bellissimo segno di generoso ingresso nella nostra città per darci anche una scossa, per farci pensare per uno scambio di idee sul cambio di mentalità che forse è il principio cardine su cui Taranto deve fare il suo cambio di prospettiva ma anche cambio di passo. Quindi è stata un'occasione per noi tutti oggi presenti in queste giornate per guardarci allo specchio e capire quali sono le criticità ma anche i nostri punti di forza. Taranto attraversa una transizione ecologica, digitale, ma io dico che deve attraversare anche una transizione umanistica e sociale. Cioè per intenderci non basta l'ammodernamento tecnologico, occorre anche coinvolgere l'insieme della città, le periferie, i quartieri periferici, il mondo del lavoro, i corpi intermedi, le associazioni, perché a Taranto c'è sempre il rischio di una scivolata verso il disfattismo, verso lo scarico a barile, cioè il momento in cui c'è qualcuno che assume l'atteggiamento ma sì non cambia niente, lo Stato ci ha abbandonato, la politica ci ha tradito, mentre io invece vedo segnali positivi di dinamismo, di realtà positive, di giovani che innovano, di imprese che si mettono in discussione, di scienziati, di ricercatori, l'università, le amministrazioni, quindi abbiamo tante risorse positive, ma se vogliamo vincere questa sfida occorre coinvolgere l'insieme della città. Quindi un vivo apprezzamento e un ringraziamento alle tre amiche napoletane che hanno organizzato questo evento, ma come dire, facciamo squadra e la realtà di questi giorni facciamola vivere, facciamola conoscere nelle scuole, sui social, in modo che sia un esempio, un riconoscimento per loro, un esempio per i tarantini, a muoversi e non aspettare in modo passivo il fatto.